Dottore Buono, qual è il prezzo che la marineria sta pagando dall'emergenza Covid che ancora non è finita? Ma è un prezzo troppo importante che ancora oggi sta pagando perché la crisi sui mercati e quindi da un punto di vista anche di impatto diretto sul settore lo stiamo vivendo ancora nei nostri giorni. Ci sono, non dimentichiamolo, le strutture, i ristoratori e anche i grossi banchetti che ancora oggi non si possono fare e gioco forza un settore primario come quello della pesca ne risente ancora oggi. Quindi la crisi ancora non l'abbiamo vissuta nel suo completo però stiamo ancora aspettando anche per esempio dei ristori da parte sia del governo centrale che anche dalla regione. Sappiamo insomma così come ha anche annunciato l'assessore Scilla ai vostri microfoni che le graduatorie sono pronte e quindi probabilmente di qua qualche settimana l'assessore detto aprile massimo maggio diciamo avverrà la materiale erogazione con un po' di ritardo ma va bene ci sta perché le normali procedure amministrative sappiamo quali sono. Intanto però anche nella prospettiva del superamento dell'emergenza sanitaria i tratti di mare che sono battibili dai nostri pescherecci sono sempre più ridotti. Questa è una grande nota dolente del settore pesca e in particolare naturalmente quello delle nostre zone perché a Ponente di Sciacca quindi a Ovest di Sciacca ci sono due tratti di mare che tra l'altro sono quasi contigui lasciando materialmente lo spazio per l'attività di pesca come se fosse un canale di passaggio. E i due tratti di mare sono uno quello più sottocosta che è quello che è stato interdetto da diversi anni da oltre sei o sette anni dal cosiddetto piano di gestione della marineria di Mazzara del Vallo della piccola pesca della marineria di Mazzara del Vallo che è sotto la competenza della regione siciliana che però ha fatto un'istruttoria e mandato l'istruttoria al ministero delle politiche agricole per modificare il piano di gestione. Ahimè siamo ancora in attesa di avere l'esito e questo tra l'altro l'abbiamo anche rappresentato all'assessore Scilla. Poi c'è quella invece successiva del regolamento comunitario entrato in vigore nel 2019 che ha interdetto un'altra zona di mare sempre a Ponente di Sciacca un po' più fuori diciamo rispetto alla zona interdetta dal piano di gestione che ahimè è il cosiddetto piano di gestione del gambero del nasello che sarebbero in sofferenza cosa che noi abbiamo contestato attraverso le nostre associazioni di categoria e se vi ricordate abbiamo fatto anche delle azioni importanti andando anche addirittura ad interloquire a Roma con il sottosegretario alla pesca eravamo tutte alle marinerie siciliane del sud della Sicilia ad aver avuto questa possibilità. Attendiamo anche lì che ci siano degli esiti e anche questo lo abbiamo richiesto più volte anche alla regione siciliana di farsi carico di questo impegno. Tra l'altro a tal proposito con le interlocuzioni che abbiamo avuto in questi giorni con l'assessore Scilla annuncio che la prossima settimana la marineria di Sciacca sarà ricevuta dall'assessore proprio per discutere di queste questioni.